questo è uno degli ombretti KIKO della linea EIETEC LOOK questo è lo 05 qui vedete il colore è un rosa e questo è il risultato è un ombretto che si stende molto facilmente soprattutto qui io ho preso questo colore appunto per creare un illuminante io ho preso questo colore qui apposta per illuminare l'arcata sopraccigliare io lo trovo un prodotto molto semplice da usare poi l'applicatore, io pensavo che l'applicatore di quella forma si spezzasse subito invece no quindi quindi